Come è nata la collaborazione con RICS e come è nata la scelta di una location come questa per organizzare il convegno di questa mattina dedicato ai centri commerciali? La scelta di questa splendida location nasce da un'azione di co-marketing con il gruppo generale tesa a far percepire ai tenant interessati al palazzo come potrebbero essere già arredati gli spazi che abbiamo visto prima. Noi abbiamo fatto una marking suite con generale di 400 metri quadrati, l'abbiamo fatta sia alla partecipazione di gli Ossi del gruppo Lema che di Artemidi. È stata un'operazione di grande successo perché ha dato la possibilità di far percepire l'arredo non più come un riempimento di spazio, bensì proprio come l'individuo al centro di questa operazione e quindi di come si potrebbe già sentire a casa attraverso lo spazio già considerato. Per quanto riguarda la seconda domanda, questo bellissimo spazio non poteva che ospitare Rix che la sua Presidente è una nostra cara amica, abbiamo grande stima di lei e quindi abbiamo pensato di ospitarla in questa manifestazione che è stata molto nutrita di cui siamo veramente molto contenti.